Ciao a tutti, si è Brofantasy 2.0 e oggi ho chiamato Stand of 2. Come vedete ho finito il pass, sono arrivato al 31 normalmente e dopo l'ho comprato per vedere se mi uscivano altre cose perchè come vedete tipo alla fine sul 30 sblocchiamo un coltello. Comunque questo pass qua, sono solo da 3 tipi di coltello che mi piacciono. Sarebbe il... questo coltello qua, Giacomander, il Karambit, scusate questa roba qua cos'è? Verifica della... vabbò, una roba della sicurezza, chi se frega del telefono. Cioè no, vabbò, chi se frega del telefono niente, però comunque, vabbè pazienza, sarebbe l'antivirus. Comunque dopo l'M9 Bionet Frozen. I coltelli che non mi dispiacerebbe trovare sarebbe questo Karambit, quest'altro Karambit, questo Butterfly e i due kunai che non è uno dei miei coltelli preferiti, però comunque, come skin, non dico che è brutta. Il coltello che proprio non mi piace è il Flipknife, perchè, c'è, c'è, sapete nel mercato, sono altri coltelli, c'è il coltello Flipknife. C'è tipo, non mi ricordo come si chiama, ma sarebbe un coltello bianco, forse Frozen, non lo so, non mi ricordo. Comunque quel coltello lì è molto simile a questo. Allora, c'è, non mi piace perchè, c'è, sembra tipo lo stesso coltello quello che c'è nel, nel mercato, negozio, vabbè. Comunque, io ho comprato il pass, appena sono arrivato al 30, dopo vabbò, sono arrivato al 31 facendo anche le missioni che mi mancavano, cioè missioni, quelle giornaliere che mi mancavano. Comunque, vabbè, non ho guardato ancora l'inventario, sono entrato e, vabbè, ho preso il pass e dopo ho startato la registrazione, scusate. E adesso siamo qui. Adesso clicchiamo il, vabbè, l'inventario e vediamo cosa mi è uscito. Clicchiamo tra 3, 2, 1, adesso. Non ci credo. Vabbè, Butterfly, e ho trovato, vabbè, 4 casse, quelle là, da 100 gold, 400 gold di casse. Vabbè, la Fable, vabbè. Il Butterfly, e 2 charm epici, 3 charm rari, che sono molto carini. Uh, una pistola leggendaria, quella, questa qua è figa. L'M110, vabbè, queste due Star Trek. L'AVM, questa qua è l'AVM che volevo trovare io, però quella Star Trek volevo trovare. Però dai, anche quella normale ci sta. Dopo, vabbè, uno sticker epico e tutti gli altri rari. Vabbè, è la medaglia che adesso, vabbò, me la metto. Vediamo. Il Butterfly, e aspettate, come vedete, questo qua è il mio inventario, dove c'è il Butterfly, i Windov, vabbè, i Genesis, vabbè, tutte le altre armi. E rimuoviamo un attimo, mettiamolo per i counter. E questo mettiamo per gli anti. No, pure no. Mettiamo il contrario, mettiamo, dai. Aspettate. I terroristi. Ok. Adesso ho un coltello da una parte e un coltello dall'altra. E adesso, vabbè, vediamo la pistola, l'assegniamo per tutti e due team. Beh, per... Aspettate. Per tutti e due team volevo cliccare. Esamina. Cioè, come pistola è fighissima. Questa qua forse è una delle skin che mi tengo. Che non vendo. Dopo, vabbè, assegniamo questo, ma tanto l'M110 non lo uso mai. Vabbè, manco nelle private, comunque. Tipo, quando faccio le pritte con amici. Vabbè, questa è una skin che... Cioè, è un'arma che uso abbastanza nelle competitive. Però, cioè, non è che mi piace come skin. Pure Star Trek, però, vabbè, dai. Un'altra Star Trek, la KPR, l'avevo trovata normalmente nel pasquero gratuito. Vabbè, comunque ci sta. Questo qua è l'AVM, che io ho già l'AVM Genesis. Però, questo qua è l'AVM normale, che... Raro, che cos... Aspettate, no, non volevo cliccare l'assegnato. Volevo cliccare l'esamina. Cioè, come skin è figa, comunque. Facciamo questa, sempre per i terroristi. Quella là per gli anti. What? Perché si è buggato? Cioè, vedete che c'è la virgoletta sull'AVM dei terroristi anche qua. Vabbè, non lo so. Si è buggato un attimo. Rimuoviamo e mettiamo i terroristi. Questa, vabbè, dai. E counter, l'AVM. Poi, i Charm. Cioè, sì, i Charm, i Sticker. Mi è andata abbastanza male, perché come vedete, tipo, sono tutti uguali. Cioè, cinque uguali di questo genere. Cioè, veramente è andata male. Dopo, vabbè, cos'è che abbiamo trovato? Vabbè, due Sticker, sempre due uguali. La medaglia, vabbè, questa qua, aspettate, vi faccio vedere. Questa qua è la medaglia. E vabbè, ci sono anche le casse, i Charm, vabbè, ci stanno. Molto carini. Esaminiamo. Vabbè, dai, ci stanno. Sono belli. Ah, mi stanno arrivando solo messaggi. Vabbè, chissà. Comunque, esaminiamo questo. Sempre figo. Ok. E anche questo. Belli. Comunque, aspettate un attimo. Ammetto, non disturbare, così, tipo, i messaggi non mi arrivano quando sto registrando, che dà un po' fastidio. E, vabbè, compriamoci una cassa rival, tanto per, perché avevo già 100 silver. Vediamo, apriamoci queste casse qua e vediamo se mi esce qualcosa di decente. Vabbè, non mi è andata così tanto male, vi dico. Cioè, ho due butterfly adesso nell'inventario. Quello del pass mi sa che lo vendo perché, come ho detto, non mi piace così tanto come il coltello. Cioè, è sempre figo, però non è che mi piace. Aspettate. No, vabbè, ma bocchissi, mi sbaglio. Esamina, volevo. Questo qua è il coltello. Cioè, vabbè, ci sta comunque, dai. E, l'ultima volta, quando ho preso queste casse qua, questa roba qua mi ha dato un botto fortuna di caricare il coltello e girarlo. Perché mi è tipo passato il coltello un po' di volte. Lo faccio su tutte le quattro delle casse e vediamo se mi esce qualcosa di figo. Vediamo. E... Una deal rara. Ok. Senza Star Trek. Vabbè, pazienza. E... Facciamo la Fable. Che la Fable mi ha dato un po' più fortuna certe volte. Facciamo la Butterfly Gold del Starfall. E facciamo anche, dai, l'M4 Lizard che ci sta comunque. Ecco, sono passati qualche coltello. Vediamo se... Ok. Star Trek, please, please. No. Vabbò, sta andando un po' male, però dai, abbiamo ancora due casse. Potrebbe succedere ancora di tutto di trovare almeno una bella skin. Giriamo questo e questo. Apriamo. È passato un coltello prima. Anche qua. Un'altra Deagle. Star Trek? No. Ah, boh, abbiamo l'ultima cassa. Che, boh, vediamo cosa ci esce, ma... Se non ci esce niente veramente il pass... Cioè, la cosa... Le cose... Le uniche due cose che mi sono uscite buone, si potrebbe dire. Il coltello, vabbè, sì, e anche il P350, che, comunque, come pistola non è che uso tanto, perché non la so usare. Però, comunque, c'è... Ci sta come skin. Volevo un po' abituarmi a usare quella... Questo tipo di arma per, vabbè, abituarmi e tutto. E di andare un po' più forte. Vabbè, dai, apriamoci l'ultima cassa Fable. Dopo entriamo in una partita privata. Così vi faccio vedere la... La texture, la grafica della skin che ho trovato nel pass. Ok. Facciamo sempre la stessa roba. E apriamo. Vediamo cosa troviamo. Ah. Vabbò, dai, chissene. È andato un po' male. Pazienza. Comunque, vabbò, dai. Poteva andarmi peggio. E, vabbò, i charm li lasciamo lì. Dopo, vabbò, deciderò... Quando finirò la registrazione. Dove incolarle tutto. E sortiamoci una lobby privata. Aspetta, ho messo tutte le skin. Mi sembra di sì. Aspettate. Per sicurezza e controllo. Vabbè, questa qua, vabbè. La KPR, intendo. Vabbè, pazienza che quella non l'ho messa. Vabbò, le skin più importanti le ho messe, dai. I charm, vabbò, li lascio perché tanto... Vabbò, non avrebbe senso. La cosa che mi interessa più di tutto è la VM. Voglio proprio vedere come si vede la VM. Ok, aspetta. Aspettiamo questo caricamento qua e dopo entriamo in partita. La cosa che non mi ricordo adesso... In che team avevo messo la VM? In terroristi oppure... Comunque, se vedete... Oh, ecco, sì, sì, in terroristi. Vedete che ho i comandi quelli iniziali perché sto usando un altro telefono io. Perché nel mio telefono normalmente lagge. Per questo che in sei giorni non sto facendo tanti video perché, vabbò, mi lagge e non riesco a giocare. Ok, vabbò, come la VM è figa. Cioè, guardatela. Aspettate, spariamo un colpo e ricarichiamo. Cioè, è bellissima. Cioè, no, a parte scherzo, questa VM qua è bellissima. Cioè, riguardiamola un attimo. Fantastica. E andiamo di nuovo qua. Prendiamoci la P350. Questa qua è la P350. No, vabbò, è bellissima. Cioè, guardate quanto è bella. No, vabbè. Questa qua sicuramente me la tengo perché... Cioè, aspettate, non c'è manco il tasto del start. Ah, vabbò, il doppio... Ah, il doppio click. Ah, vabbò, a kiss. Cioè, comunque ci sta. Bellissimo. E il butterfly... Vabbè, questo qua... Devo cambiare team. Ecco qua, il butterfly. Dai, ci sta. Vabbò, vi dico. Il butterfly prima non mi piaceva così tanto. Per questo... Cioè, proprio... Come skin del pass che mi poteva trovare. Però dai, comunque ci sta. Cioè, non... Non è così tanto brutto se ce l'hai proprio... In game, questo butterfly. Dai, ci sta. Comunque. Vabbò, adesso ho due coltelli in inventario. Vabbò, dopo deciderò se venderne uno. E... Comprarmi un altro tipo di coltello. Oppure no. Comunque, aspettate. Vediamo. Eh... Cos'è che avevamo di skin nuove, si potrebbe dire? La KR. Però quella mi sembra che... Vabbò. Ve lo faccio vedere comunque. Ecco, questa qua è la KR. Che è sempre bella. Questa qua l'avevo anche trovata nel pass. Quello... Gratuito. Però, vabbò, ne ho trovato tipo 4 o 5 nel pass quello che scioppa direttamente. Basta, mi sembra che non ho trovato altre skin. Ah, vero, l'MP5. Ecco, l'MP5 si vede così. Dai, ci... Cioè, non è una delle mie skin preferite, dell'MP5. Però comunque è bella come skin. La riguardiamo l'ultima volta. Ok. Comunque, vabbò, mi sembra che basta. Non c'ho altre skin da farvi vedere. Ok. Comunque, mi manca... Vabbò, liviamo un attimo. Comunque mancano tipo 2-3 giorni per la fine del pass. E in questi 2-3 giorni arrivano altre missioni che potrei completare e... Cioè, andando avanti col pass, tipo, vabbò... In 2-3 giorni riesco a farmi soltanto queste due cose. For... Cioè, posso avere un'arma in più, che non è niente male. E anche uno sticker. Mi dispiace che non ho trovato questo sticker qua, perché è bellissimo. Perché guarda, quanto è bello. Però, vabbò, dai, chissene. Dopo, vabbò... Cioè, mi è andata anche bene di aver trovato almeno una leggendaria. Comunque, cioè, dai ci sta. Vabbè, per oggi è tutto. Iscrivetevi al mio canale, mettete like, cliccate la campanellina. E per non paio adesso, andateci video. Ciao!